1.258 euro e questa è la somma devoluta all'associazione Progetto Noemi Onlus. Il gesto di beneficenza arriva dalla Polizia Municipale di Montesilvano. I soldi sono stati raccolti mediante un torneo di calcio e verranno utilizzati per acquistare materiale per il reparto di terapia subintensiva pediatrica di Pescara. Presenti il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, l'assessore allo sport, Alessandro Pompei e i rappresentanti delle altre forze dell'ordine che hanno partecipato al torneo. Sport e solidarietà è il nostro motto. Il nostro gruppo sportivo, come ho detto prima, in 20 anni di attività ha donato oltre 200 quintali di derrate alimentari, 80.000 euro in denaro contante. Quindi ci siamo dati da fare. Essere vicini a chi soffre, facendo sport è la cosa più bella che ci possa essere. Anche perché non possiamo essere solo quelli che attaccano le contravenzioni contro i vetri delle persone. Abbiamo anche il volto umano. Noemi è una bambina affetta da atrofia muscolare spinale, una rara malattia neurodegenerativa. I suoi genitori decisero di reagire a questa condizione fondando, senza alcun fine di lucro, l'associazione Progetto Noemi Onlus, che ha l'obiettivo di sensibilizzare le ASL, gli operatori sanitari, sulla conoscenza di questa malattia genetica, di sostenere la ricerca scientifica e di aiutare economicamente le famiglie che vivono questa o tante altre patologie, nella speranza di migliorarne, per quanto possibile, la qualità della vita. Come associazione cerchiamo di far sì che la disabilità gravissima pediatrica abbia le giuste attenzioni. Quindi questo contributo renderà operativo e ancora migliore il reparto di terapia subvidenziale pediatrica, che è nato a Pescara, ai quali noi stiamo cercando di dare il massimo e appungolare anche l'istituzione affinché si possa dare ancora di più per l'assistenza e in più l'aiuto alle famiglie, perché noi cerchiamo di aiutare economicamente le famiglie che vivono queste disabilità, disabilità gravissima pediatrica. Quindi comunque vedere persone, istituzioni che affiancano il nostro percorso sicuramente ci rende orgogliosi, perché quello che si sta facendo è reale, è concreto, ma soprattutto è credibile.